Buonasera a tutti, iniziamo immediatamente questo incontro che sarà, mi auguro, molto denso e tra l'altro siamo tutti grati al professor Giuseppe Remuzzi perché è appena arrivato e dopo questo incontro ripartirà e quindi questo credo già sia testimonianza della sua dedizione e del suo impegno anche nella divulgazione di alcune questioni che noi ora cercheremo di affrontare per come meglio potremo. Saprete che il professor Remuzzi è il direttore dell'istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, è stato per moltissimi anni primario all'ospedale di Bergamo, è sicuramente uno dei ricercatori di chiara fama internazionale e ha scritto questo libro che troverete naturalmente, avete già visto, al banchetto all'ingresso quando i medici sbagliano e come discuterne in pubblico. Ora quando Gabriella mi ha proposto qualche mese fa la presentazione di questo libro facendomelo anche materialmente vedere da una foto su internet. Mi ha colpito il titolo, su questo chiederò quanto c'è lo zampino dell'editore e quanto invece dell'autore perché apparentemente sembra un titolo che ammicca un pochino a quel sentimento antiscientifico che è stato dilagante e che abbiamo toccato con mano negli anni, in questi anni di pandemia. Poi naturalmente la lettura delle pagine è un libro, una delle qualità di questo libro, parentesi, è che è molto intenso ma scorre veramente come acqua da rubinetto, cioè lo leggete in pochissimo tempo e restano tantissime cose. Dicevo, scorrendo le pagine di questo libro invece si capisce ben presto come sia una onesta ma anche appassionata difesa del metodo scientifico nella sua essenza, cioè un percorso di approssimazioni anche di errori per giungere al miglior risultato possibile alle condizioni date secondo dei metodi che sono comparabili ed esportabili da chiunque. Un esperimento fatto in un certo modo in un laboratorio in Lombardia deve essere uguale, fatto nelle stesse condizioni di un esperimento fatto a Hong Kong piuttosto che a Vancouver. Ora mi chiedo e le chiedo professore, intanto diciamo il perché di questo titolo, quanto c'è di suo e quanto c'è dell'editore, ma soprattutto abbiamo notato nell'approccio del periodo pandemico un'ondata di sentimento antiscientifico a cui ha fatto da contrasto forse un atteggiamento forse un po' troppo scientista, cioè l'opposizione di un dogma alla confutazione di quelle che erano verità scientifiche anche acquisite. Quanto pesa un difetto di comunicazione della comunità scientifica che tende comunque per specializzazione a essere abbastanza chiusa e quanto invece la necessità di fermare il dilagare di questa ondata antiscientifica. Guardi, sono domande bellissime e quindi sono già contento. Se anche non me ne fa delle altre ha già fatto delle domande bellissime. Abbiamo un'ora e cercheremo di approfittare della sua presenza. Il titolo. Io non centro niente nel titolo, non solo, ma a me il titolo non piace. Io un titolo così, un libro con un titolo così non lo comprerei. Dipende dal fatto che Giuseppe La Terza, che peraltro è una persona meravigliosa di una cultura straordinaria e che fa una quantità di iniziative per il nostro paese che forse nessun altro fa nel campo editoriale, ha voluto questo titolo qua. A me non piace. Proprio per quello che ha detto lei, sembra quasi che io voglia criticare i medici, non c'entra niente. Quando i medici sbagliano e perché è bene discutere in pubblico, già il sottotitolo avvicina un pochino a quello che io voglio dire. Intanto non pensiate che i medici non sbagliano, ma non credo che i medici sbagliano apposta. La maggior parte dei medici sbagliano perché si sbaglia e perché i medici sono come tutti gli altri. Sono come i giudici, come i giornalisti, come quelli che fanno la televisione, come i cuochi. Sono come tutti, come maestri di scuola. Io mi ricordo una maestra di scuola di una mia sorellina che era piccola, quando io ero piccolo anch'io, ma lei era molto più piccola, e prende tre in un tema. E in questo tema c'è segnato con la matita blu con venti righe il fatto che lei aveva scritto qua senza accento. Ma qua si scrive senza accento, le ho detto io. Allora lei è andata alla maestra e la maestra, come purtroppo fanno tanti medici quando gli fai notare che hanno sbagliato una cosa, ha detto avresti meritato zero, sei contenta di aver preso tre. Quella maestra lì avrebbe dovuto secondo me il giorno dopo dire scusate ho sbagliato al posto di fare la maestra di scuola, d'ora in poi vado a fare un altro lavoro che magari mi viene meglio. La hostess in un aereo per dirne che deve fare per forza. Allora, i medici prima cosa sbagliano come tutti gli altri. Quindi il fatto, ma non è quello di cui parla questo libro, questa è la cosa interessante, il fatto che l'errore del medico si veda di più non c'entra con la qualità dell'errore. La qualità dell'errore è uguale per tutti. Non è che la maestra della mia sorellina ha sbagliato di meno del chirurgo che sbaglia a fare l'operazione, ha sbagliato uguale. Solo che nessuno si interessa di quel problema lì. Se lui che credo faccia il giornalista fa un errore di sintassi, se ne accorge qualcuno, poi pazienza, tutti si dimentichano. Se uno sbaglia la diagnosi e mettiamo il malato muore e questa cosa qua se ne accorgono tutti o forse non se ne accorgono neanche, però ha una, ma quindi è la conseguenza dell'errore che è diverso. Rimanendo su questo tema per concludere, quando i medici sbagliano però devono ammetterlo, devono dire scusate ho sbagliato e poi bisogna mettersi in condizioni di non sbagliare. I piloti di aereo sbagliano anche loro, però si mettono in condizioni di non sbagliare. Poi nonostante ciò si sbaglia lo stesso, però hanno tutto un sistema per cui se tu fai una manovra sbagliata c'è qualcuno che ti dice no guarda che qui hai sbagliato e adesso anche la medicina sta facendo così. Cioè una volta non si facevano, ma per dire una cosa molto semplice che capiscono tutti, non so c'è una checklist che vuol dire una lista di ferri che tu devi avere per un intervento chirurgico che devono essere di un certo tipo, in un certo ordine e questo deve essere verificato da tre persone, poi bisogna rifare una verifica. Alla fine è una cosa banale, ma ci sono una serie di sistemi che ti aiutano a non sbagliare. La questione della comunicazione è fondamentale. Secondo me i medici non devono soltanto saper fare il medico, ma devono anche saper parlare con gli ammalati e questo libro parla di più del parlare con gli ammalati che non di quando i medici sbagliano. Tanto è vero che la mia proposta se per caso si dovesse fare un'altra edizione, ma credo che non si potrà, è quella di fare il titolo che ha fatto la recensione del Corriere della Sera a questo libro che dice dottore per favore mi spieghi e questo è fondamentale. Dottore per favore mi spieghi si applica ai medici, ma si applica anche ai colleghi miei, qualche volta vado anch'io, che vanno a parlare alla televisione e vorrebbero spiegare alle persone come stanno le cose. Ecco, bisogna essere bravi per spiegare perché se la gente non capisce è inutile, tutto quello sforzo che hai fatto non serve a niente. La maggior parte delle persone però devo dire sono abbastanza bravi a spiegare. Il punto della televisione di questi talk show, di queste risse è che è il conduttore che comanda, non siamo né noi né quelli che la pensano in modo diverso da noi. Il conduttore è lui che deve mettersi in evidenza, purtroppo, mentre invece dovrebbe avere un profilo discreto e cercare di capire. E quello che fa normalmente è prendere due persone che la pensano in modo diverso in modo da creare una rissa, se questi si insultano sono ancora più contenti perché così aumenta l'audience, ma in questo modo la gente rimane confusa perché sente un parere e ne sente un altro e fa fatica a capire chi ha ragione. La questione ultima che hai affrontato, se possiamo darci del tuo, è anche molto importante. Cioè era più una risposta a questa ondata di profondo e improvviso atteggiamento scientifico proprio un limite. Ecco, questo vuol dire che lui ha colto un punto a cui io tengo tantissimo, cioè il dire noi seguiamo la scienza è sbagliato da parte dei politici. Io adesso parlo di politici nel senso nobile del termine, parlo della politica alta, della politica che dovrebbe essere quella che informa l'attività di tutti i politici di qualunque parte del mondo e non dovrebbe essere quella di dire io faccio questa cosa perché i sondaggi mi dicono che la gente vuole questa cosa qua. Io faccio questa cosa perché è giusta. Poi la gente non sarà contenta, mi manderà a casa, però nel frattempo ho fatto una legge giusta che resterà nel tempo. I politici, nel senso più nobile del termine, non devono mai dire io seguo la scienza. Devono ascoltare la scienza. La scienza è una cosa seria, è una cosa importante, non è mai una cosa definitiva, non è come la Bibbia, nessuno ha la verità in tasca. La scienza, esattamente come ha detto il mio interlocutore, continua a modificarsi perché si fa un esperimento, poi uno lo conferma, poi un altro non lo conferma e in questo modo si fanno dei passi avanti che intendiamoci sono straordinari perché una volta tutti i bambini con la leucemia acuta morivano, adesso nessun bambino con la leucemia acuta muore, per farvi un esempio, ma ve ne potrei fare mille altri, però i politici devono ascoltare i cosiddetti scienziati o comunque ricercatori medici per avere le idee chiare su quello che sono le conoscenze di quel momento lì. Tenete presente che soprattutto in questo campo di pandemia le conoscenze che vi venivano fornite da chi aveva le conoscenze giuste valevano in quel momento lì. Una settimana dopo possono essere tutte diverse. Io ho imparato qualcosa stasera in aereo mentre leggevo delle cose che sono state pubblicate ieri, prima non le sapevo. Quindi la scienza si continua a modificare. Ma poi è il politico che deve decidere. Una volta che la scienza ti ha detto tu chiudi tutto e il virus non si diffonde. Questa è una verità scientifica sulla quale non c'è nessuna discussione tanto è vero che il presidente della Cina vuole zero covid e chiude tutto. Dall'altra parte cosa c'è però? Che invece che morire delle persone di covid che poi non è che muoiono neanche tutti muoiono delle persone di malattie, di povertà, di tante altre cose. Allora il politico cosa deve fare? Questo è quello che mi dice la scienza. Vi ho fatto un esempio banale ma vi potrei fare più sofisticato. Io però devo tener conto degli interessi della società che possono essere diversi, che possono essere in competizione, che possono essere gli interessi di chi ha un negozio e che ha 20 persone da mantenere e che deve chiudere. Un altro errore che è stato fatto è quello di dire ma questo privilegia la scienza e questo privilegia l'economia. Non è questione di privilegiare la scienza o l'economia, è la stessa cosa perché qual è la prima causa di malattia al mondo? E' la povertà. Quindi se tu fai delle scelte che hanno un razionale forte per quello che si sa in campo scientifico ma hanno una ricaduta su delle altre attività della società o dei tuoi cittadini che portano le persone ad ammalarsi e sbagli, non è che siccome ho seguito la scienza io sono a posto. Quindi ci sono dei lavori molto belli. Uno è stato pubblicato recentemente su Nature che dice i politici non devono prendere la scienza come scusa per non decidere o per decidere delle cose che in realtà non sono in grado di decidere mettendo sul piatto della bilancia tutti i vari interessi dei vari gruppi che non sono interessi banali, sono interessi fondamentali anche di sopravvivenza a certe volte. Quindi questa domanda... Rimanendo sull'aspetto comunicativo, il terzo capitolo si intitola che il dibattito pubblico fa bene alla scienza e aiuta a ridurre i pergiudizi. Però mi chiedo, un uomo della sua esperienza e competenza, quanto è inorridito davanti ad alcune stranezze e assurdità che si sono lette in questi anni e soprattutto quanta fatica ci vuole a tenere il punto su un dibattito pubblico che tendenzialmente è sempre livellato verso il basso ora che, come dire, gli internet e i social consentono un accesso a chiunque che si pone anche magari con degli atteggiamenti quasi alla pari rispetto a persone che ne sanno molto di più. Per uno come lei, con la sua storia, quanto è faticoso il dibattito pubblico oggi? Il dibattito pubblico può essere anche faticoso ma va affrontato, va sostenuto, anche parlare con gli ammalati è un lavoro. Tra l'altro se lo fai bene non ci vuole neanche tutto questo tempo, l'importante è farlo bene. Però è una cosa che va fatta e ci sono delle categorie di persone che non si possono convincere e quindi lì secondo me non si deve neanche investire. Cioè se qualcuno ti dice che l'omeopatia, che non contiene niente, cura delle malattie non c'è discussione, puoi portargli tutte le evidenze che vuoi ma quelle persone che hanno messo la loro vita sull'omeopatia, sul fatto che si può fare ricerca scientifica senza topi e ratti è impossibile. Se tu hai un farmaco che aumenta la memoria, non è che puoi aumentare la memoria delle cellule in cultura o dei computer. Devi a un certo punto vedere se il tuo farmaco è capace di aumentare la memoria nei topi. Se uno non capisce questa cosa qua perché è pregiudenzialmente convinto che un topo è uguale a un uomo e quindi tu non puoi fare la ricerca usando gli animali è inutile discutere. E poi c'è questa storia dei Novax. Questi Novax si dividono in due categorie. Delle persone che sono convinte che i vaccini possano anche far male e hanno ragione. Infatti, se voi vedete questo libro, ci sono scritte tutte le circostanze in cui i vaccini possono fare male. C'è scritto quanto male possono fare i vaccini. C'è uno che può morire per aver fatto il vaccino? Sì. Il problema è che bisogna mettere sul piatto della bilancia quanti muoiono per aver fatto il vaccino e quanti muoiono per non averlo fatto. Quelli che muoiono per non averlo fatto nel 2021, solo nei posti dove è stato possibile avere il vaccino, cioè Europa, Stati Uniti, Giappone e Australia, un vaccino buono, un vaccino che quello cinese non funziona tanto bene, sono stati 20 milioni che non sono morti per aver fatto il vaccino. Non c'è niente in tutta la storia dell'umanità che ha salvato in così poco tempo 20 milioni di vite. Certo, alcuni sono morti per il vaccino. Molto pochi. Allora, se nonostante ciò ci sono delle persone, io il vaccino non lo voglio fare perché sono contrario al vaccino perché il vaccino mi trasforma geneticamente, mi fa diventare una persona con un altro DNA, per delle... Lì, secondo me, non va la pena. Cioè, veramente, si perde il tempo. Io penso che il tempo perso con la gente per spiegare la scienza non è mai perso, però ci vuole un minimo se uno ha dei pregiudizi non c'è niente a fare. Anche perché, e anche qui ci sono degli studi fatti molto bene, sulle persone che ragionano almeno un pochino riesci a confrontarti. Ma se uno non vuole sentire ragioni ed è contrario per definizione, sono persone che hanno un giro di internet, di social, di Facebook, non so, io non sono, quindi non vi so dire. e se loro perdono questa loro caratteristica di essere contro gli animali per la ricerca scientifica, di essere a favore dell'omeopatia, di essere contro il vaccino, perdono tutte le loro amicizie. Tu magari riesci anche a convincere uno, ma è il suo giro che ha fatto di quella gente lì. Si trovano al ristorante o nella trattoria o a bere una birra o a fare lo spritz se sono a Padova con quelli che ragionano così. Quindi non c'è niente da fare. Tu distruggi un enclave che è una specie di religione per cui è impossibile entrare. Ma comunque sono pochissimi, quindi questi. La maggior parte delle persone che dicono di essere i contrari ai vaccini. Se tu gli fai vedere tutti i dati, se spieghi, questo libro cerca di spiegare. Certo, bisogna essere onesti, cioè bisogna dire veramente come stanno le cose. Bisogna raccontare la storia dei vaccini, che non è qui ma in un altro libro, con tutti i fallimenti che ci sono stati, con tutti i problemi che ci sono stati. La storia della medicina va raccontata bene. Il trapianto di fegato salva la vita a tantissimi bambini. Però prima che Starzl riuscisse a fare un'operazione perfetta sono morti probabilmente 200 bambini di chirurgia del trapianto di fegato. E la storia bisogna raccontarla così. Poi adesso ve ne racconto una di come siamo passati dai tempi di Starzl che erano gli anni 70 in cui lui ha fatto i primi trapianti di fegato a oggi. Adesso il più grande chirurgo del mondo si chiama Robert Montgomery. È un uomo incredibile. Vi racconto un piccolo particolare che sembra un pettegolezzo ma vi dà l'idea dell'uomo. Questo qui prende un aereo per andare a fare una lezione a un congresso. E questo aereo mettiamo che fosse da Boston a San Francisco. E lui è seduto in parte è una signora bellissima alta a occhio sarà alta 1,80 qualcosa che è una cantante lirica. Lui uscito dall'aereo quando è arrivato a San Francisco si è sposato con questa donna qua per dire insomma è un tipo un po' particolare. questo uomo è in questo momento il più grande chirurgo del trapianto che ci sia ma se uno è il più grande chirurgo del trapianto vuol dire che è il più grande chirurgo in generale. E lui fa soprattutto trapianto di cuore ma è anche uno che è stato capace di fare trapianto di intestino di cuore di fegato di pancreas e di rene alla stessa persona. Questo Montgomery ha una familiarità per un gene per cui a un certo punto si dilata il cuore e uno ha uno scompenso cardiaco e muore e questo è successo al suo papà che aveva 54 anni ed è morto e è successo a un suo fratello che aveva 34 anni ed è morto. Questo Montgomery a un certo punto si trova in rianimazione e ha scritto su Financial Times era in rianimazione in attesa di un organo che non arrivava mai che è quello che succede a tutti quelli che hanno lo scompenso cardiaco. Questo organo arriva è un organo di un paziente con un'epatite C. Se tu fai un trapianto da un donatore con un'epatite C prendi l'epatite C che è una brutta malattia. Per fortuna i passi avanti della medicina sono tali per cui adesso c'è una cura dieci anni fa non sarebbe stato così. E lui ha preso questo cuore la chirurgia l'ha fatta un suo allievo pensate che cosa succede nella medicina di oggi. Questo suo allievo gli fa il trapianto di cuore col cuore del donatore con l'epatite C lui dopo quattro giorni sviluppa un'epatite C incomincia a prendere il farmaco che si chiama su Fosbu che costa tantissimo ma ti fa guarire dall'epatite C nel giro di quattro mesi guarisce dall'epatite C ma ritorna a operare due settimane dopo l'intervento non aspetta di essere guarito dall'epatite C. Questo vi dà un'idea in questa storia ci sono talmente tante cose che vi dice come è cambiata la medicina dai tempi di Starz però la gente bisogna raccontare le cose come stanno il segreto secondo me è tutto quello lì tu convinci la gente se gli spieghi come si arriva a fare il trapianto di cuore per esempio a cui tutti erano contrari ma come andando avanti si può arrivare addirittura a una situazione come quella del più grande chirurgo del cuore che ha bisogno di un cuore che glielo fa il suo allievo che ha l'epatite C e che gli va bene perché tanto sa che guarisce con un farmaco che c'è da poco e fa guarire tutti i pazienti con l'epatite C. Professore lei prima ha detto che in questi anni di pandemia si sono fatti tantissimi progressi perché forse perché come poche altre volte nella storia della medicina forse come nessun'altra volta le varie comunità di medici delle varie nazioni hanno parlato hanno scambiato dati nella misura in cui questo è stato possibile però a un certo punto nel libro dice anche che di Covid-19 sappiamo ancora pochissimo quanto poco sappiamo di questa malattia e cosa sappiamo soprattutto che può essere messo come un caposaldo delle conoscenze dall'inverno 2020 a oggi abbiamo imparato tanto ma come in tutti i campi della medicina è più quello che non sappiamo di quello che sappiamo però non dobbiamo fare l'errore di dire le cose che non sappiamo sono sempre di più ma questo nella scienza in tutti i campi però certo che i passi avanti che sono stati fatti da quando il virus è arrivato in Italia per esempio oggi sono stati enormi abbiamo avuto un vaccino in dieci mesi non è mai successo nella storia dell'umanità che ci fosse un vaccino in dieci mesi naturalmente qualcuno dice sì perché saranno state fatte le cose male invece no le cose sono state fatte benissimo però i governi hanno messo una grande quantità di soldi a disposizione di chi aveva la tecnologia per creare questi vaccini RNA con questo ragionamento io ti do negli Stati Uniti sono stati centinaia di miliardi di dollari in Europa sono stati 20 miliardi di dollari io ti do questi soldi se funziona guadagni tu non voglio indietro niente se non funziona pazienza io ho perso i soldi però se funziona io ho guadagnato che i miei cittadini non si ammalano e questa è una cosa fondamentale naturalmente voi pensate alla vostra attività se uno per esempio fa il pasticcere mettiamo e ha tre ragazzi che lavorano nella pasticceria e improvvisamente ti dico guarda io ti do i soldi per averne 30 è chiaro che tu fai molto più in fretta a fare un sacco di cose quello che prima facevi in un mese adesso lo fai in una settimana è esattamente la stessa cosa i gruppi che avevano la tecnologia per fare i vaccini e il RNA non avevano limitazioni finanziarie e hanno potuto decuplicare gli scienziati che lavoravano a questo e quindi sono arrivati a fare rapidamente una cosa che avrebbe richiesto molti anni se non ci fossero state queste risorse quindi non è che sono stati saltati i passaggi ma è stato fatto tutto benissimo poi dopo come semplice rovescio della medaglia allora uno si può chiedere perché poi tutto il guadagno è andato a finire su Pfizer e Moderna e BioNTech e i governi che avevano messo i soldi non hanno avuto niente non solo ma l'NIH che vuol dire National Health Institute che è l'istituto superiore di sanità americano è lui che ha passato la sequenza dell'RNA all'industria per poter fare i vaccini e gli scienziati che erano arrivati a quelle conoscenze poi hanno avuto da dire perché il brevetto è stato fatto soltanto da queste case farmaceutiche all'inizio quello che era il risultato economico del brevetto era solo a vantaggio dell'industria farmaceutica e naturalmente questo non era giusto c'è stato un processo alla fine e si sono messi d'accordo quindi non è sempre tutto perfetto però certo che avere un vaccino in dieci mesi che salva 20 milioni di vite in un anno è una cosa straordinaria questa è la cosa più importante che è successa poi ne sono successe tante altre abbiamo imparato a difenderci abbiamo imparato pur con tante polemiche che se uno sta in un ambiente chiuso che non è areato è bene che abbia la mascherina come ha qualcuno di voi abbiamo imparato che sul pullman è meglio non essere in tanti se non si è protetti è una cosa interessante per esempio è un lavoro che ha fatto vedere che in un pullman dove l'80% delle persone si sono infettate non si sono infettati quelli che erano vicino alla porta sia la porta posteriore che la porta anteriore questo per dire una banalità che abbiamo imparato ma ne abbiamo imparate tantissime altre abbiamo imparato che mutazioni ci sono che mutazioni ci potranno essere abbiamo imparato che il virus muta non so se vi ricordate all'inizio e questo succedeva anche da tante persone che voi vedevate alla televisione che tutti chiamano virologi in realtà non sono virologi virologi ci sono tre gli altri sono infettivologi pneumologi epidemiologi per carità persone altrettanto brave e discipline altrettanto importanti ma il fatto che tutti li chiamano virologi vi dà un'idea dell'approssimazione con cui si presentano anche le cose più semplici però vedevate delle persone dire io mi ricordo molto bene questo virus non muta e quel virus si pensava che non mutasse in realtà questo virus muta tantissimo tutti i virus RNA mutano ma questo muta tantissimo e lì c'è anche un po' di miopia da parte sia dei governi che dell'industria farmaceutica perché una cosa furba sarebbe stata quella di cercare di accelerare la vaccinazione anche a costo zero anche nei paesi che non se lo possono permettere perché quello che succede è che se tu vaccini anche il 100% delle persone in una certa area del mondo ma non vaccini nessuno in Africa per fare due esempi estremi alla fine il virus arriva qui arriva mutato arriva difficile da controllare arriva che poi devi fare tantissimo lavoro per correre dietro e comunque il virus è più svelto a mutare di noi di quanti noi non siamo svelti a fare un vaccino nuovo quindi questo è stato uno sbaglio che è stato fatto e a cui bisognerebbe cercare di porre rimedio lei è professore di nefrologia a un certo punto un capitolo riguarda il covid e il rene come se apparentemente non ci potesse essere un legame una delle cose che la pandemia ha insegnato invece l'estrema capacità di questo virus di aggredire gli organi all'inizio si diceva le alte vie respiratorie quello è stato un errore di comunicazione o ancora non si avevano le conoscenze e soprattutto qual è il grado di aggressività rispetto agli organi perché molto spesso si sente di decessi per un collasso multi organo per esempio dopo l'aggressione di questo virus dicevo e all'inizio si diceva quanto è aggressivo il virus rispetto alla tenuta degli organi quella storia del rene deriva da una cosa che è successa alla televisione da parte di un mio collega che non è un virologo il quale si deve essere innervosito perché io avevo avuto l'occasione di parlare di covid in qualche occasione e quindi lui ha detto non riesco a capire perché i nefrologi si devono occupare di coronavirus allora io avrei potuto offendermi e dire invece ho detto ma questa è una cosa interessante e ho creato una una lezione che io faccio adesso ai medici sul perché i nefrologi si occupano di coronavirus e ho anche scritto un lavoro scientifico sul perché i nefrologi che si occupano di coronavirus ed è un perché molto profondo perché la prima ragione è che il recettore che utilizza il virus per entrare nelle nostre cellule si chiama ACE2 non vi dico cosa vuol dire perché è irrilevante ma quello lì è un recettore che è una delle cose che i nefrologi studiano da sempre perché è un recettore che è importante nel controllo della pressione nell'eliminazione del sale nell'eliminazione dell'acqua è una delle cose che i nefrologi studiano da 20 anni particolarmente il nostro gruppo da 30 anni da un sacco di tempo quindi la prima ragione è quella lì e poi ci sono tantissime altre ragioni il virus non si localizza soltanto nei polmoni la localizzazione nei polmoni è quella che si vede di più perché uno non respira siccome il rene non respira non batte il cuore batte il rene è silenzioso non fa niente tanto è vero che certe volte uno arriva con una situazione insufficienza renale grave in ospedale il medico gli dice guardi che lei deve fare dialesi lui cade dalle nuvole perché non ha mai sentito niente il virus si localizza anche nel rene noi l'abbiamo trovato nel microscopio elettronico fa dei danni e per esempio un'altra cosa che saprete tutti perché l'hanno raccontata molto bene e anche dicendo quello che è che se uno arriva in ospedale e ha il diabete ha l'obesità ha l'ipertensione a una malattia del sistema immune ha più probabilità di morire di quanto non sia uno che non ha nessuna di queste malattie ma la probabilità più alta di morire di tutti in associazione al virus ce l'hanno le persone con insufficienza renale cronica quindi bisogna stare molto attenti a questi malati a quelli che sono dializzati a quelli che sono trapiantati di rene e noi lavoriamo proprio su quello cioè poniamo grande attenzione a questi aspetti quindi ci sono tantissime ragioni per cui i nefrologi si debbano occupare di coronavirus e quella quella uscita lì di questo mio collega non era felice però a me è servita perché mi ha mi ha aiutato a fare tante cose quindi gli sono grato non vi dico chi è non so neanche se lui lo sa ma io ho proprio delle diapositive che fanno vedere perché i nefrologi si devono occupare di coronavirus senta professore dunque questo è un festival sull'attualità e sulle discussioni che magari anche tutti facciamo ogni giorno magari in caso quanto è urgente la campagna per la quarta dose ora alle soglie del notturno inverno perché finora la risposta secondo i dati quello che tutti possiamo monitorare è abbastanza deludente per quanto riguarda la quarta dose quanto è urgente quanto è necessaria farla adesso o nei tempi giusti allora io ieri ero a Roma ho parlato col generale che ha sostituito il generale Figliuolo prima c'era il generale Figliuolo con cui ci vedevamo una volta ogni 15 giorni era un incontro molto simpatico io gli dicevo quello che aveva letto lui che sapeva comunque un sacco di cose mi diceva come c'era organizzato poi è venuto questo generale Petrone adesso il generale Figliuolo non lo invidio perché ha un compito incredibile che è quello di coordinare tutte le forze armate che stanno fuori dall'Italia quindi pensate in che momento lui ci teneva quella posizione lì però gli è capitata in un momento un po' complicato questo generale Petrone che è quello che l'ha sostituito mi diceva ieri che delle persone sopra gli 80 anni hanno avuto la quarta dose quasi il 70% che è una cosa molto buona bisognerebbe arrivare al 90% di più non si riesce mai di quelli però sopra i 50 anni non arriviamo al 30% questo è un problema perché la quarta dose è fondamentale per chi ha più di 50 anni o ha delle malattie associate quelle di cui abbiamo parlato prima è importantissima per i trapiantati è importantissima per i dializzati è importantissima per chi ha un tumore e sta facendo terapia immunosoppressiva è importantissima per chi ha delle malattie del sistema immune su questo non c'è discussione quale quale vaccino allora c'è un bellissimo articolo del New York Times che dice il migliore vaccino è quello che riesci ad avere nell'ambito di questo se tu prendi come quarta dose per queste categorie quelli che hanno più di 50 anni se tu riesci ad avere il vaccino che è fatto contro il ceppo BA1 e il ceppo originale di Wuhan hai un piccolo vantaggio rispetto al ceppo originale se hai il vaccino bivalente che poi in realtà è trivalente che è fatto con BA4 BA5 e ancora il ceppo originale di Wuhan lì un lavoro uscito proprio in questi giorni fa vedere un vantaggio sostanziale nel fatto che l'immunità permane forse per più di sei mesi l'immunità indotto dal vaccino gli anticorpi vanno via dopo quattro mesi però rimangono le cellule del sistema immune che hanno visto il vaccino che qualche volta hanno visto non solo il vaccino ma anche il virus perché uno si è ammalato e allora hanno una memoria di aver fatto questo incontro e quindi il tuo organismo non è più come prima è un organismo che è capace di difendersi o perlomeno di difendersi dalla malattia grave quindi quarta dose da fare sicuramente alle categorie che avevo detto prima con il vaccino che c'è per le persone più giovani forse non c'è una risposta sicura il buon senso direbbe che adesso chi non ha fatto ancora la quarta dose a meno di 50 anni e non fa parte di quelle categorie potrebbe aspettare ancora un mese ancora forse due mesi in modo da essere coperto poi per tutto l'inverno se poi fa questo trivalente che è l'ultimo nuovo probabilmente è una copertura anche molto più lunga perché queste persone rischiano molto poco adesso negli ospedali quando voi vedete 60 morti 80 morti in realtà non è vero nella nostra reanimazione in questo momento ci sono 24 pazienti in questo momento negli ultimi tre mesi sono morti 24 pazienti con covid ma di questi pazienti il covid ce l'avevano di covid sono morti due il problema è che quando vai in ospedale ti fanno il tampone se hai il tampone positivo e tu sei ricoverato di reanimazione per un'emorragia cerebrale entri nel numero dei pazienti di covid quindi bisogna stare molto attenti e interpretare i dati adesso quelli che muovono di covid nelle reanimazioni sono pochissimi e sono tutti i pazienti che appartengono alle categorie che vi ho detto prima dopo le eccezioni ci sono sempre nella medicina un'eccezione si può sempre trovare quindi gli altri rischiano molto poco e poi c'è il problema dei bambini c'è un vaccino per i bambini che funziona molto bene e tutte le società di pediatria raccomandano di vaccinare anche i bambini anche con la quarta dose poi ci sono quelli che dicono i bambini non rischiano niente quindi non vale la pena di vaccinarli perché possono avere delle miocarditi delle complicanze che in genere guariscono con un po' di cortisone bisogna dire che è vero però non bisogna dimenticare che globalmente in tutto il mondo da quando è arrivato il covid sono morti di covid 60.000 bambini quindi sono pochi rispetto ai bambini che ci sono al mondo e sono pochi rispetto a quelli che sono morti di morte violenta parlo di tutto il mondo di morte violenta di cause domestiche di incidenti stradali però insomma non sono zero quindi bisogna pensare anche a questo sono decisioni difficili però vi posso dire che tutte le società di pediatria sono d'accordo su questo fatto e proprio oggi ho letto un lavoro che dimostrava come è fortemente suggerito ai bambini di più di 5 anni di essere vaccinati anche con la quarta dose senta professore è dell'immunità indotta dalla malattia cosa si è imparato in questi mesi perché ha colpito il fatto che per esempio Omicron abbia fatto razzia anche di tanti che avevano avuto i ceppi precedenti dell'immunità acquisita dalla malattia ora che si sa dunque se uno si è ammalato molto presto e quindi col ceppo originale di Wuhan ha una risposta immune che non protegge dalle varianti successive protegge un pochino da beta protegge un po' meno da delta protegge quasi niente da Omicron se uno si è ammalato da una variante Omicron è protetto dalle altre varianti Omicron e allora noi siamo abbastanza ottimisti che anche le prossime varianti per chi è vaccinato e per chi ha avuto la malattia di una di queste varianti Omicron possa essere protetto anche dalle varianti successive su questo siamo abbastanza ottimisti quello che è interessante però è che la vaccinazione qualunque tipo di vaccinazione protegge dalla malattia grave indotta da qualunque variante e quindi questa è una cosa che conforta molto il secondo aspetto che mi ha impressionato dei suoi capitoli oltre a quello della necessità di parlare con trasparenza con franchezza anche dei limiti della medicina è la passione che emerge nelle pagine in cui lei rivendica la necessità di politiche di salute pubblica che sappiano tenere a bada il mercato lei non esita a usare delle parole come profitto cita più volte big pharma usando anche come dire un linguaggio che è comune a tanti che hanno come dire una serie di pregiudizi nei confronti di alcuni meccanismi di alcuni sistemi ma come si fa nel mondo attuale con le dinamiche in corso con il volume di investimenti che il privato riesce a generare l'industria farmacologica come si fa a mettere le briglie alle redini quale governo può avere una forza quale comunità scientifica può avere la forza di creare un giusto equilibrio fra le necessità di politica pubblica e quelle della ricerca dello sviluppo dell'industria farmacologica che non sempre o quasi mai sono sovrapponibili questo dipende da voi questo non dipende da me non dipende dai medici e non dipende neanche dai politici politici sostanzialmente fanno quello che volete voi e voi vedete adesso non dico voi ma probabilmente anche voi avete votato avete cambiato completamente l'assetto parlamentare rispetto a come era prima e quindi come vedete voi influenzate moltissimo le scelte che si fanno se voi foste convinti io dico voi per dire 60 milioni italiani che la sanità deve essere pubblica come sono convinto io potete stare tranquilli che chi governerà darà molta attenzione alla sanità pubblica se tutti si desinteressano e lasciano che la sanità diventa scusate se uso un termine brutto terreno di caccia per interessi particolari è chiaro che nessuno si interessa di questo e allora chi prende vantaggio dai tantissimi soldi che sono generati dalla sanità lo può fare perché nessuno gli dice niente io vi dico solo una cosa a un certo punto 40 anni fa deve essere anche di più di 40 anni fa comunque a un certo punto molto di più di 40 anni fa nel 1970 ai rotti anni fa nel 1948 sui muri di Londra e sui pali della luce è comparso un cartello un pezzo di carta con scritto a tutti gli inglesi voi da domani avrete un servizio sanitario nazionale voi pagherete per questo servizio attraverso le vostre tasse ma questo servizio fate attenzione vi toglierà la preoccupazione dei soldi nel momento in cui vi ammalate questa è una cosa straordinaria pensate un governo inglese che dice ai suoi cittadini noi vi vogliamo togliere la preoccupazione dei soldi nel momento in cui sarete malati noi nel 1978 abbiamo fatto la stessa cosa abbiamo un servizio sanitario nazionale uguale a quello inglese adesso gli inglesi loro lo stanno un pochino perdendo perché incominciano a appaltare tante attività ai privati e un lavoro dell'ANSET proprio di questi giorni fa vedere che dal 2013 hanno cominciato a far fare ai privati un certo tipo di attività e man mano che aumenta la quota dei privati che si occupano di sanità man mano aumenta la mortalità e hanno corretto per tutte le possibili variabili e questo vi fa vedere quanto noi persino negli Stati Uniti dove non c'è un servizio pubblico è tutto basato su assicurazioni e sistemi privati quasi tutto per cui lì c'è la preoccupazione dei soldi la gente si alza al mattino con la preoccupazione di ammalarsi perché sa che non potrà pagare e poi il servizio degli Stati Uniti dal punto di vista sanitario è uno dei peggiori del mondo e costa tantissimo costa il 17% del PIL figuratevi una cosa pazzesca e il servizio è infinitamente peggio che da noi salvo che tu non vai nei grandi ospedali di Boston e non sei ricchissimo il punto ho discusso tante volte con il mio amico professor Sirchia che si occupava di trapianti perché lui ha organizzato si occupava di trapianti dal punto di vista della compatibilità donatore di C20 ha organizzato una magnifica cosa al Policlinico di Milano e lui è un sostenitore della sanità privata e ha sempre detto tu devi pensare abbiamo fatto un dibattito anche sulla lettura su questo tu devi pensare che alla gente non interessa se è pubblico o privato che lo cura gli interessa solo di essere curato bene non è vero alla gente interessa tantissimo sapere se la finalità ultima di chi ti cura è aumentare il fatturato o se è come nel caso della sanità pubblica di diminuire il fatturato la sanità pubblica deve diminuire il fatturato deve tendere a diminuire il fatturato cioè meno interventi chirurgici meno protesi dell'anca meno chirurgia coronarica meno dialesi se riesci la sanità privata deve fare tutto il contrario vi faccio un piccolo esempio che è illuminante ve ne potrei fare tantissimi voi non lo saprete perché siete lontani ieri sera parlavo invece un posto vicino a Brescia loro lo sapevano ma voi siete lontani forse qualcuno di voi ha sentito parlare o forse no di un ospedale che si trovava a Sondalo che è in provincia di Sondrio e lì c'erano ricoverate le persone con la tubercolosi quando di tubercolosi non c'erano farmaci non si guariva e allora si andava dove c'erano le pinete dove c'era l'aria buona dove si poteva prendere il sole e lì andavano le persone con la tubercolosi e c'erano dei pneumologi che erano diventati famosissimi i pneumologi sono quelli che curano le molette dei polmoni e dei chirurghi che operavano perché ci sono delle lesioni tubercolari che vanno operate che sono diventati dei grandi esperti uno di questi mio carissimo amico purtroppo è morto è diventato un grandissimo chirurgo del polmone e curava e operava i cancri del polmone va in pensione e va in una struttura privata vicino a Bergamo anzi a Bergamo e lui comincia a operare e un giorno va da lui l'amministratore delegato e gli dice scusa io c'è una cosa che non riesco a capire tu quest'anno se fai 10 diagnosi di tumore del polmone operi 4 persone nella mia stessa organizzazione a Milano quando fanno 10 diagnosi di tumore del polmone ne operano 8 e lui dice certo perché i 4 che io non opero 2 hanno una malattia così avanzata che se tu operi quel malato lì prendi i soldi del cosiddetto DRG ma al malato non fai un servizio perché la malattia è così avanzata che lui soffre per niente gli altri due non c'è bisogno di operarli si possono curare in un altro modo la differenza tra pubblico e privato è tutta qui quando tu hai 10 diagnosi del tumore del polmone ne dovresti operare 4 ma ne operi 8 vuol dire che fai qualcosa che non serve necessariamente al malato ma ti serve per aumentare il fatturato ed è esattamente così poi è lunga ho scritto un libro che si chiama La salute non è in vendita però non tra parentesi questo è stato la terza che ha messo non tra parentesi perché dice hai fatto un libro la salute non è in vendita però spieghi che è in vendita allora almeno il non mettilo tra parentesi e lì ha avuto una bellissima idea voi però dovete essere gelosi del servizio sanitario nazionale voi non ve ne rendete conto ma uno che ha una leucemia a brindisi va in un ospedale lo curano costa tantissimi soldi e guarisce lui non avrebbe mai la possibilità e ho detto brindisi perché sono atterrato a Brindisi a Lecce lui non avrebbe mai la possibilità di avere quei soldi lì a meno che non sia uno ricchissimo ma eppure tutti noi paghiamo per lui e lui pagherà per noi quando uno di noi si dovesse malare è una cosa veramente straordinaria certo non è perfetta ci sono dei problemi mancano i medici per forza se voi non mettete la salute che è il bene più prezioso che abbiamo pensateci bene tutte le altre cose tutte quando siete malati non vi interessano più non potete godere di niente quando siete malati la salute è il bene più prezioso che abbiamo deve essere al centro dell'agenda di qualunque governo e di qualunque politica se tu sostieni la salute sostieni l'economia sostieni il benessere sostieni tutto sostieni il lavoro uno dei problemi del lavoro è che la gente si ammala ma se tu hai un servizio sanitario nazionale che previene le malattie e tantissime malattie si possono prevenire tu migliori non c'è niente che non migliora quando migliora la salute abbiamo bisogno di renderci conto che la cosa più preziosa che abbiamo in questo paese a parte Brera a parte il palazzo Pitti a parte gli uffizi a parte l'arte a parte tutto quello che volete voi è la salute e quindi l'investimento più grande va messo sul servizio sanitario nazionale professore la sua storia professionale la sua carriera coincide in gran parte con quella del servizio sanitario nazionale ma lei lo ha visto migliorato o peggiorato in questi decenni i ragazzi che si laureano in medicina sono bravissimi fanno impressione io lavoro con dei ragazzi che sanno tutto un po' anche perché c'è scritto tutto sul telefonino quindi non è come una volta che tu fai il giro e dici fai il professore parli devi stare attento perché lui va a guardare sul telefonino e magari tu hai detto una cosa che non è vera e lui sa quindi sono bravissimi da quel punto di vista lì è migliorato i soldi però hanno continuato a diminuire e quindi se tu continui a diminuire un servizio evidentemente hai dei problemi e poi la gente pensa che il servizio pubblico non sia efficiente e per esempio in Lombardia dove è successo il vero disastro che voi non avete ancora visto ma in Lombardia è così hanno messo in competizione il pubblico e il privato con l'idea che l'efficienza del privato trascinasse il pubblico ma la medicina i malati hanno bisogno di medici e di cure che siano efficaci non efficienti perché se tu operi 100 pazienti di protesi dell'anca nel giro di due mesi sei efficientissimo ma se di questi soltanto 20 ne avevano bisogno non sei per niente efficace quindi questa è la cosa fondamentale non è l'efficienza non è quello che deve guidare quindi deve mettere in competizione pubblico privato è sbagliatissimo io non sono contrario al privato il privato pagato con i soldi privati va benissimo il privato pagato con le assicurazioni va benissimo il privato dei russi adesso non vengono più ma di quelli che avevano un sacco di soldi e venivano qui andavano a vedere Brera, Milano poi andavano nelle strutture private dopo che avevano visto il cenacolo di Leonardo che a me tra l'altro non piace neanche e gli fanno vedere il cenacolo di Leonardo poi lo operano delle coronarie benissimo ma non è un privato che paghiamo noi però perché quello lì è privato accreditato quindi noi paghiamo due volte paghiamo per il servizio sanitario nazionale e anche per il privato quindi noi paghiamo loro guadagnano e danno un pessimo servizio rispetto a quelli che hanno veramente bisogno non che il servizio non sia efficiente certo che il servizio è efficiente però bisogna vedere se c'è l'indicazione giusta per un certo intervento guarda caso i pazienti che stanno 40 giorni in reanimazione che hanno infezioni che hanno sepsi i pazienti per cui più si lavora più si perde sono tutti negli ospedali pubblici non ce n'è anche uno negli ospedali privati quindi il privato va benissimo che venga in soccorso al pubblico dove il pubblico è carente faccio un esempio molto concreto gli epidemiologi vi possono dire di preciso quante persone nella provincia di Lecce l'anno venturo avranno bisogno di un intervento per un tumore alla mammella mettiamo che siano 4.000 dico un numero a caso allora voi dite il nostro servizio sanitario nazionale a cui ho dato tutto quello che serve ho dato tutti i medici ho dato tutti gli infermieri comunque non arriva a farne 4.000 ne fa 3.000 allora io accredito un privato per farne 1.000 va benissimo e così funzionerebbe tutto bene però non che io accredito il privato per fare tutto quello che vuole perché allora pago due volte e non è neanche detto che quello che fa questo privato sia quello che effettivamente serve professore ci siamo ci siamo c'è ancora un po' di tempo c'è ancora un po' di tempo resta più che altro c'è il tempo della regia che sono già proiettati al prossimo incontro no vi dico un'altra cosa del mio chirurgo mio amico quella lì è fortissima il solito amministratore delegato dopo che gli ha chiesto perché 10 perché cosa dove sono gli altri 4 un'altra volta va lì e gli dice senti una cosa tu hai operato quest'anno 250 persone col tumore al polmone bravissimo però l'anno 21 me ne devi fare 350 e lui è venuto a parlare con me e mi dice ma dove li trovi in 350 già operati tutti allora cosa fanno questi privati adesso lo fanno di meno perché dopo il covid le cose sono cambiate non ho capito bene perché ma una cosa positiva che ha fatto il covid è che ha fatto riscoprire alle regioni che sono più svantaggiate quali sono le loro competenze e ha anche stimolato i medici a dire ma perché dobbiamo andare uno nella tal clinica privata in Milano possiamo farlo altrettanto bene noi questa cosa qua allora lui dice dove vado a prenderli io i 350 quello che lui non lo fa perché è una persona onesta ma quello che fanno in queste strutture è che li vanno a prendere da voi li vanno a prendere in Puglia magari no ma li vanno a prendere in Sicilia li vanno a prendere in Calabria li vanno a prendere nel Mosiglice li vanno a prendere nelle regioni più svantaggiate e così cosa succede siccome le regioni sono obbligate a pagare per intero il paziente che va a curarsi da un'altra parte le regioni già svantaggiate continuano a impoverirsi i chirurghi delle regioni più svantaggiate continuano ad essere meno bravi perché i chirurghi sono come quelli che giocano a tennis se li fai giocare a tennis tante volte diventano bravi ma se li fai giocare a tennis una volta al mese perché li mandi tutti nelle cliniche private in Milano è molto difficile che tu possa avere dei bravi chirurghi insomma è un sistema assolutamente perverso addirittura ci sono delle strutture private che prendono dei malati che vengono persino dal Piemonte da noi allora prendono un traumatologo mettiamo o un urologo che viene a Milano e si porta i suoi pazienti quindi dice al tal paziente lei ha questa cosa qua qui deve aspettare sette mesi se però viene a Milano io la posso operare domani e naturalmente bisogna pagare eccetera ecco questa cosa qua mi spiace ma non va bene va cambiata e chi la può cambiare la possiamo cambiare noi come ci dobbiamo convincere che il servizio sanitario nazionale è la cosa più preziosa che abbiamo se però quel mestiere lì lo faccio solo io da solo non ce la faccio professore l'ultima domanda che le voglio fare è più sul lato personale immagino che una pandemia se per la società civile per i non addetti ai lavori sia una tragedia per gli addetti ai lavori per gli specialisti anche una grande sfida una grande sfida sulla ricerca sulla competizione su quello che ciascuno di voi può offrire per elaborare le migliori risposte alla pandemia in questi due anni e mezzo qual è l'insegnamento più significativo che come uomo e come scienziato ha ricevuto da questa da questa vicenda che ha coinvolto tra virgolette democraticamente tutto il mondo l'hai detto tu all'inizio che tutti i ricercatori del mondo si sono messi a lavorare anche in modo eccessivo probabilmente su questo problema e quindi i tanti passi avanti sono stati dovuti al fatto che c'è stato uno scambio di informazioni di pubblicazioni incredibili perché tutti questi dati sono stati pubblicati quindi insomma abbiamo imparato un sacco di cose l'altra cosa è che la dedizione di tantissimi medici dell'ospedale alla assistenza respiratoria è stata così profonda che molti miei colleghi che di mestiere si occupano di malattie renali adesso sanno assistere problemi respiratori come un pneumologo come un infettivologo e il rovescio della medaglia è che abbiamo visto delle persone sfinite che non ce la facevano più perché quando tu ti arriva un malato dopo che non dormi da tre notti e sei ancora lì con tre notti e adesso viene un altro malato e poi ne vengono altri dieci e poi ti telefonano alla pronto soccorso c'è qui un malato che non respira veramente questa è stata una situazione drammatica uno arrivava a casa sfinito non riusciva a dormire il doversi alzare il giorno dopo di ricominciare questa cosa qua era veramente veramente difficile però soprattutto i ragazzi giovani sono stati straordinari e ce l'hanno fatta bene bene io ringrazio il professor Giuseppe Remuzzi per il grande privilegio che ci ha dato nel prendere un aereo venire essere nostro ospite e ripartire subito per i suoi impegni questo è un incontro di cui noi di conversazioni facciamo tesoro perché dice anche molto del lavoro che si sta facendo in questi anni quindi grazie professore per essere venuto credo che ci sia il tempo di un break e poi subito avanti con il prossimo incontro Francesco Costa presenta California e dialoga con la mia collega Elaria Marinaci grazie a tutti